Confliggere, negoziare, risolvere. L'ascolto attivo e la comunicazione efficace uniti contro un unico grande nemico, il conflitto. Questo è il tema pregnante del convegno, tenutosi al centro polifunzionale di Ruviano ad Alvignanello e fortemente voluto dal comune di Ruviano, dalla Proloco Raiano e dalla cooperativa sociale Angeli in Volo, promosso grazie anche alla partecipazione del patrocinio morale delle associazioni di Ruviano, XI, Casa delle Donne, Arci, Forum dei Giovani e Capiverdi. L'evento, che ha visto nel suo incipit il saluto delle autorità, tra cui il prezioso contributo spirituale del parroco Don Antonio Chichierchia, di una rappresentanza dell'amministrazione comunale e del presidente della Proloco Pasquale Di Meo, ha poi accolto al centro del dibattito, magistralmente condotto dalla counselor Daniela Bruscino, l'importanza che oggi riveste il counseling e della necessità dello stesso, ai fini della valorizzazione delle proprie qualità personali che hanno solo bisogno di essere catalizzate in particolari momenti di difficoltà della nostra vita. Non una lezione frontale, ma un dibattito interattivo volto a capire l'altro, ma soprattutto a capire noi stessi. Essenziale il ruolo della comunicazione è visto come un ponte tra noi e l'altro, per nulla esente da conflitti, contro i quali il più prezioso antidoto resta l'ascolto attivo. I conflitti sono parte inevitabile delle relazioni e quando accadono devono servire a rafforzare e ad energizzare le relazioni stesse. L'iniziativa nasce non a caso nel giorno della Marcia Perugia-Sisi, nel nome della pace e della fraternità. E da Alvignanello è tutto, Mariangela Marotta per casertasera.it